ciao sono gioco bocci e quella che vedi è la mia faccina in versione smile pixel art ma accendiamo la luce e allarghiamo l'inquadratura per farti vedere cosa in mano questo qui è della divom o divoom se lo diciamo in inglese si chiama time box mini ed è uno speaker bluetooth vedete l'aria qui dietro ma anche sul davanti questa matrice di led rgb che permette di farvi fare tante cose quindi andiamo a vederlo ascoltarlo più vicino e vi introduco una novità di questa recensione ho deciso di fare alla fine i pro e i contro quindi se volete poter saltare alla fine della recensione per avere subito un riassunto di quelli che secondo me sono i punti che vanno bene e punti che vanno male ma andiamo per l'appunto a vederlo più da vicino allora questa è la scatola dello speaker che non ci interessa perché alla fine se andiamo a fare un finto unboxing abbiamo lo speaker e due cavetti in dotazione uno per la ricarica che è un cavetto usb micro usb e un cavo per l'ingresso ausiliario che è un mini jack stereo maschio maschio infatti andiamo subito a vedere sul retro quelle che sono le connessioni abbiamo appunto la parte usb è molto interessante due femmini mini jack stereo e che abbiamo sia l'aux in sia l'aux out e questo è molto carino perché noi possiamo utilizzare quindi il time box tipo sopra il nostro impianto hi fi e dall'aux out andare su un ingresso del nostro impianto appunto stereo per utilizzare non so la musica e streaming dal nostro cellulare con spotify e cose del genere quindi questa è un'altra funzione l'audio come vedete è questa griglia qui dietro e quindi l'audio di per sé va verso il retro ma come far sentire tra poco nonostante questo suona comunque in maniera dignitosa buona ovvio che la sua collegazione ideale è quella contro uno spigolo ma non lo so sopra il lavandino del nostro bagno ma passiamo sul davanti e andiamo a vedere i suoi tasti allora sul lato destro avete vedete questi due uno col simboletto del sole uno col simboletto dell'accensione premiamo giustamente quello dell'accensione vedete compare il cuore una piccola suoneria e poi compare il bluetooth che lampeggia e si sta collegando al mio smartphone e compare l'ora allora il tasto sotto con una pressione lunga lo andrà a spegnere con una pressione breve mi dà un'indicazione dello stato di ricarica vedete la batteria quasi del tutto piena il tasto sopra permette con una pressione breve di cambiare impostazione questo è il meteo che vi fa vedere vedete con l'animazione che è una giornata di sole il secondo è praticamente una luce continua potremmo utilizzarla come luce atmosfera non so nel soggiorno oppure anche come luce notturna per i bimbi molto interessante l'animazione da scegliere la faccina animata anche questa da scegliere e il pixel art che vi ho fatto vedere all'inizio oppure giustamente spento torniamo alla prima impostazione con una pressione lunga possiamo cambiare il colore vedete quindi molto facile personalizzare ma molto meglio con l'app sopra abbiamo i due controlli per il volume più e meno con una pressione breve in realtà si cambia il volume con una pressione lunga il cambio traccio il tasto play per partire fermare la musica oppure quando si utilizza in viva voce avete questo piccolissimo forellino al microfono per rispondere le chiamate o interrompere le chiamate come vi dirò più tardi il viva voce è uno dei suoi punti deboli tutta qui l'interfaccia ma diventa tutto molto interessante quando andiamo a prendere il nostro smartphone infatti c'è la sua app dedicata che si chiama timebox vado a riaccedere e vedete che abbiamo tantissime tantissime impostazioni vedete abbiamo musica meteo messaggi vocali possiamo progettare animazione raccolta pianificazione sonno sveglia strumenti notifiche giochi vi faccio vedere alcune cose per esempio utili tipo sugli strumenti possiamo andare a prendere il segna punti vedete stiamo facendo uno gioco con gli amici ok ha vinto la squadra blu poi la squadra rossa poi ancora la squadra rossa poi la squadra blu quindi diventa una cosa molto simpatica se ci prendessi se mi sbaglio o anche il meno no ho segnato un punto di troppo a zera ok e torniamo all'inizio abbiamo anche dei giochi tipo un gioco di corsa con le macchine con tanta musichetta conferma e praticamente io devo evitare collisioni utilizzando appunto i tasti volume più e meno il più mi porta a destra il meno a sinistra tutto qui posso andare ovviamente a impostarmi le sveglie è fatto molto bene che vedete posso impostarne quante ne voglio e anche variabili in basso al giorno e poi per ogni sveglia posso andare a scegliere il suono vi faccio qualche esempio chitarre questa è quella che utilizzo io ad avere l'onde marine ok mettiamo le spunte vedete compare la pixel art della sveglia l'abbiamo impostato poi possiamo andare impostare giustamente i colori per esempio dell'orloge quindi che coloro vogliamo questo verdino particolare questo è un po un bug che qui vedete ho impostato l'arancio mi è comparso un verdino però alla fine dopo un po si capisce qual è il colore questo è il verde che io amo particolarmente possiamo anche fare chat tra i due ma non ci interessa vi faccio vedere anche che posso impostare molto bene la luminosità quindi tramettere molto forte oppure molto leggera quindi tutto davvero ottimo poi ovviamente fa da speaker bluetooth me lo faccio sentire tra poco appena prendiamo gli sfidanti ma anche avere funzioni di notifiche quindi abbiamo le notifiche carine quando ci arriva non so un messaggio su whatsapp abbiamo la notifica che è un po simpatica perché il vecchio logo di instagram e quando ci arriva una chiamata riusciamo a vedere ovviamente parte della suoneria riusciamo anche a vedere il numero di chi ci sta chiamando purtroppo non il nome quindi davvero tantissime funzioni e vi ho fatto solo una carrellata per dire quando andiamo sul progetto possiamo andare noi a disegnarci la pixel art che vogliamo cioè guardate che cosa simpaticissima e si trovano anche delle pixel art già esistenti da andarci praticamente a scaricare scusate ho chiuso troppo quindi davvero simpatico ma andiamo a sentire il suo audio con gli sfidanti allora questi sono i tre speaker con cui faccio fare la prova ascolto il giochino appunto di confrontare allora il primo diciamo sfidante è del bengolufsan il bioplay p2 vi lascio il link qui sopra in scheda e troverete poi i link ai prodotti se volete acquistarli qui sotto in descrizione lui è eccezionale perché in una dimensione molto ridotta se vogliamo simile a quella del time box un suono davvero davvero eccezionale poi abbiamo il creative roar pro trovate anche questo il link qui sopra in scheda ve l'ho messo come confronto è il mio speaker bluetooth preferito suono davvero eccezionale cinque diffusori all'interno tre attivi e due passivi una vera bomba questi due hanno un suono meno convincente però comunque piacevole e il piccolino comunque per quanto ha l'uscita audio verso l'esterno se la cava davvero molto molto bene ma adesso vi lascio divertire con questa prova d'ascolto grazie a tutti 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 arrivati qui come promesso la pagellina allora avete fatto quindi il vostro ascolto con i tre speaker però questa è la mia vera opinione cos'è che va bene? innanzitutto il design ragazzi questo speaker con questi led qui davanti è davvero figo poco da dire sta bene sulla scrivania sta bene in camera a letto sta bene in bagno sta bene in salotto e gli amici diranno carino quindi funziona le funzioni e sono tante posso utilizzarla come orologio come sveglia come sveglia come la nuova notturna nella camera dei bambini come via voce davvero fa tante tante cose e le fa anche bene l'app davvero ben progettata l'impostazione tipo della sveglia l'avete visto posso configurarla in maniera davvero flessibile. L'audio infine inaspettato quando ho visto questo cosino con lo speaker rivolto verso il retro ho detto questo non suona E invece sì, con le sue limitazioni, ad esempio non ha una gamba bassa così wow, eppure suona bene Quindi ci fa compagnia la mattina mentre ci facciamo la doccia, quindi per me va davvero bene Però c'è anche la parte male, il meteo Allora io pensavo che avesse un termometro interrato In realtà la funzione di temperatura e di meteo si basa appunto sull'app e sul collegamento al web Quindi se noi lo stacchiamo dal bluetooth, ciao ciao per il meteo E onestamente le temperature non ho capito dove va a leggere qualche volta un po' sballate Fino a poco tempo fa avevo 44 gradi qui nella mia Tolentino e lui indicava 34 Ma magari erano 34, quindi purtroppo non funziona così bene Secondo punto dolente, onestamente molto dolente, è il viva voce Si sente male sia il nostro interlocutore, sia la nostra voce se non siamo davvero a un palmo dallo speaker Arriva male dall'altra parte, quindi un viva voce davvero d'emergenza Infine la personalizzazione, nel senso sì, l'app permette di fare tante cose Ma se noi vorremmo per esempio dire, ok, voi che la schermata passi dall'ora al meteo Perché il mare comunque mi piace l'animazione con le nuvolette, i fulmini o il sole e via dicendo No, non puoi, puoi fare soltanto quello che ti dice l'app Però questa mare è una speranza che siccome appunto l'app può essere aggiornata così come il firmware dello speaker Potremmo avere nuove funzioni in futuro e speriamo Quindi questa è la mia pacellina del bene e il male E visto che è la prima volta che la utilizzo, dimmi nei commenti se secondo te è una cosa carina Poi ovviamente se tutta la recensione ti è piaciuta, fammelo capire mettendo un bel mi piace qui sotto E arrivati a questo punto, se non sei già iscritto, iscriviti al mio canale cliccando sul bollino rotondo qui in alto E se hai ancora qualche minuto ti suggerisco un video da vedere qui a fianco E come sempre ti ringrazio, ti saluto, ciao e alla prossima!